Bene ragazzi, ciao a tutti, in tempo reale abbiamo assistito pochi minuti fa a uno dei super crash di bitcoin incredibile fuori controllo in soli 15-20 minuti il re del mercato delle criptovalute è crashato in una maniera incredibile ragazzi, facendo anche vedere, dimostrando quanto è labile questo mercato perché è molto piccolo e quindi basta, basta veramente pochissimo un'unghia a fare questi numeri, circa ragazzi il 25% in circa 15-20 minuti. Quindi sono molto amareggiato tra le altre cose ragazzi perché è la prima volta che perdo in bitcoin, da quando faccio trading in bitcoin perché ho perso qualcosa relativamente agli investimenti in opzioni che con una volatilità di questo tipo hanno ovviamente preso gli stop. E' insomma drastica questa situazione, vediamo un po' di fare il punto di quello che è successo e vedere di capire se questo tipo di atteggiamento, se questo tipo in effetti di oscillazione del mercato di bitcoin potrebbe essere diciamo una cosa normale o meno. Andiamo a vedere il grafico che abbiamo visto ieri, soltanto ieri vi avevo detto della fase ciclica in conclusione che il trend era virato a ribasso, questo ovviamente ragazzi era un'informazione diciamo corretta da dare ma non pensavo minimamente di assistere ad un crash di queste proporzioni, pensavo comunque a una fase di bassista appunto che si andasse ad appoggiare massimo intorno sul supporto ai 7 mila dollari. Invece il mercato è crashato ragazzi in una maniera incredibile, allora vi faccio vedere intanto dove siamo andati a finire, vedete la candela in questione, tra le altre cose adesso non ho un modo, vediamo se è un modo ragazzi di far vedere un po' il grafico anche a livello di qualche minuto, vediamo il, ecco vedete qui nell'arco di proprio 15 minuti, vedete succede tutto qui, boom boom, vedete ragazzi, incredibile. Da qui che eravamo intorno ai 7 mila e 3, un crash improvviso, intorno ai 5 mila e 5, 5 mila 6, questi sono i prezzi di Bitfinex, bruttissima situazione ragazzi. Per tanti motivi, allora intanto abbiamo rotto il minimo di dicembre 2019, quindi in questo momento il trend ritorna ad essere ribassista, faccio riferimento a questo trend ragazzi, quello iniziato dai massimi di giugno 2019, quindi vedete in questo momento il trend è di nuovo ribassista di medio periodo. E a parte questo, questo minimo potrebbe essere un minimo ciclico importante che è stato rotto dal mercato, perciò al momento abbiamo solo una possibilità di uscire da questa impasse per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, cioè andare a considerare questa fase che abbiamo appena visto, ve la faccio rivedere magari un po', ecco così, ecco questa fase come un ciclo di correzione, di chiusura di questo annuale che era iniziato al dicembre 2018 fino al dicembre 2019. Allora considerando quindi questo un fake, quindi l'unico modo è questo ragazzi, dobbiamo considerare questo minimo un fake e a quel punto potremmo magari ipotizzare che questo nuovo minimo, questa fase che sta facendo in questo momento, possa essere considerata la chiusura effettiva dell'annuale che doveva avere questo tipo di forma, insomma ecco per intenderci, ma se non fosse così, e questo purtroppo per saperlo c'è un rappo di tempo perché dovremmo assistere magari a dei rialzi, dovremmo assistere magari a delle riprese del mercato, se non fosse così questo significherebbe che il mercato ha già virato il suo trend annuale a ribasso, portando un intero anno, questo del 2020, ad essere un anno ribassista per il mercato delle cripto. A quel punto ragazzi, difficile che la tenuta di 3.000 dei minimi storici, insomma minimi relativi, chiaramente di Bitcoin, agli ultimi 2-3 anni, possano reggere. A questo punto, se questo ciclo è annuale e già ribassista, ragazzi, si mette male nel breve e nel medio periodo per il mercato delle cripto. Non disperiamo però al momento, sicuramente posizioni di long in questo momento vanno tutte eliminate, assolutamente, perché la situazione è estremamente rischiosa, lo stop di lungo periodo era sotto questi minimi, proprio quello estremo ragazzi. Però c'è questa ipotesi ciclica, l'unica che ci salva in questo momento, cioè di una ripresa dei prezzi, considerando questo un raccordo, va, chiamiamolo così ragazzi, come una fase di, insomma, di finta, di manipolazione del mercato, che invece di andare a chiudere su questa fase qui, fa un raccordo, quindi fa una finta prova a far salire il mercato, poi ritorna, fa una specie di doppio minimo come quello che sta facendo adesso, e poi ritorna a fare un trend normale di questo tipo. Per vedere questo tipo di atteggiamento, che ovviamente è il mio, quello che preferirei, ci vorrà un bel po' di tempo, intanto staremo a guardare. Quindi al momento, ragazzi, quali sono i livelli di supporto? C'è già rimbalzato, li vedete qui in verdino, e sono intorno ai 6.000, e poi questo più in giù, qui ragazzi, vedete, questo qui che è 5.500 e 6.000 che l'ha già rotti. Poi sotto abbiamo il 5.2, e poi il livello di supporto, che era questa vecchia barra di congestione, vedete questa parte qui, quindi si va tra i 5.000 e i 4.500, quindi questo punto qui in mezzo, ragazzi. Questi sono tutti i livelli, questi tre sono i più importanti in questo momento, quindi 6.000 e poi 5.500, ce la farà, speriamo ragazzi, di assistere ad una fase di ripresa, di vedere che questa fase ciclica, dove, insomma, potrebbe essere, diciamo, ecco, la fase famosa della chiusura dell'annuale, ma in sostanza ci fa vedere anche un'altra cosa, un'altra faccia della medaglia, quanto è sottile ed è effettivamente pericoloso questo tipo di mercato, ragazzi. Certo, siamo in una situazione a livello mondiale assolutamente imprevista, l'ultima, penso sia, si sia verificata di queste proporzioni sui mercati, sicuramente nel 2008, ma a livello di, diciamo, di quello che sta succedendo a livello sociale, quindi non economico, ragazzi, sociale in Italia sicuramente bisogna arrivare alla seconda guerra mondiale per stare in un periodo di questo tipo. Quindi siamo sicuramente in una situazione estremamente particolare, quindi dobbiamo un po' accettare anche questa volatilità. Nulla di più di quello che vi ho detto, ragazzi, unica possibilità, ve lo ripeto, questo ciclo, un raccordo del precedente ciclo annuale, quindi l'annuale che sta chiudendo in questo momento. Se non fosse così, purtroppo, il trend resterà ribassista. A livello di reazioni in questo momento, ragazzi, i livelli sono molto distanti. Certo, un rientro all'interno di questa fascia di prezzo tra 8.000 e 7.000 indicherebbe come, appunto, tutto questo movimento sia stato solo una fake, probabilmente causata da grandi manipolatori del mercato, però, prima di fare queste conclusioni ci vorrà un po' di tempo. Bene, ho un altro video oggi, ragazzi, un altro video non atteso, però, insomma, che periodo! Ciao a tutti!